Vi diamo sempre un buon venerdì, sempre solide cose, sempre live e sempre utile di tt. Stasera siamo proprio un po' soft perché ci volevamo rilassare un po' da parecchi, siccome sono in fase di riabilitazione con la mia psicologa Catrice. Stasera ha detto puoi uscire poco fuori dal semenato, si dice semanato all'apro, ha detto lui vabbè invece di bere l'abberettino fai un bel bicchiere di vino come un panico. Questo vino viene dalla Puglia che mi sono lavato, allora il mio amore ci sono già due patatine, soft, sempre soft, lei è sempre vicino a me senza, c'è amore scusami, è sempre una mia, non ti allarre, magari l'abbiamo un'altra volta, no. E di questo qui è un vino che è arrivato dalla Spagna, ti hanno regalato? Mai regalato adesso. Te l'hanno regalato? No, ho comprato, regalato e non ho regalato niente a nessuno. Ma ti l'hanno regalato? No, ho comprato. Ha comprato, ha comprato, ha comprato, ha comprato, ha comprato dieci bottiglie. E ora voglio capire, questo qui, lei non lo capiva e gli ho detto amore, questo qua è quello, è vero amore, tu capisci? Tu hai saputo. Ho detto amore, questo qua è quello, questo qua è quello, questo qua è quello che fanno con la vendita a Benevento. Ma è passato dalla Puglia a Benevento. Ma è passato dalla Puglia a Benevento. Un bacetto come amici. Ma non lo metto proprio questo qua, infatti ve lo voglio dire. Io non lo metto proprio perché lei è molto molto timida. Dai, andamete. Oh, gli vogliamo dire al popolo, come mi sto comportando in questo? Bello. No, ora togliamo i discorsi scivani, già parliamo un po' che sei. Perciò sto qua, poi ci sarei qua. Beh, dichelo che tu sei proprio... Dichelo però se è al contrario di questo web, di queste stranzate, che voi stiamo scherzando, perché io scherzo, che a meno per passare un po' di tempo, perché siamo un po' scocciati questi giorni. Ma è un po' spastanza. Però, grazie a Dio, noi ci vediamo la sera, perché siamo un po' rilassati. Però è una ragazza seria che mi fa stare bene. Un'amica, dico un'amica, e ti arrabbi? E che l'ha già dice, l'amore? Non sai su quello che l'ha già dice? Mi ha fatto scopo, mi ha fatto scopo, mi ha fatto scopo di cuota a me. Non voglio affizzare cosa che c'ho io. Dicendo a me, non dire proprio niente. Niente, come vuoi dire niente? Cosa ci vuoi dire al popolo? Come mi sto comportando e come sto fisicologicamente attualmente? Fisicologicamente un po' rovinateli. Perché, amor? Eh... Di che? Lo sapi che? Di che si è rovinata, fisicologicamente. Eh, perché? Devo farlo a vivere. Devo farlo a vivere. Devo vivere. Devo vivere. Dai, dai. Ah, per il web, ecco. No, ma io sono così per il web. Attualmente tu ci... Perché stai qua con me vicino al mio? Io qua, perché so qua. Eh, vai, voglio sapere. Per aiutarti. Che me ne vanno? È un bel eventano live. Per aiutarti che cosa? Volevi? È buona, eh? Buonissima. Anche tu sei benissima. Non ti metto. Non va. Divisima. Vaglio, ricordatevi una cosa. Una ragazza che veramente... E basta poco per stare bene a volte. Lei non lo so da dove è uscita. Da loro ti faccio. Lui dà le patatine. Non mi faccio. 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 Non mi faccio bene. Guardate quanto è bello. Guardate. E sempre ti 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 ti. Grazie a me comunque. Ce la faccio sempre live. Non so via nessuna. Stai suonare, rispondo, rispondo. Troppo calore. Troppo calore. Troppo calore. Troppo calore. Ce la faccio. Non lo puoi mettere, eh? Non lo mettere, eh? Mi amico. Finisci là. Ce la faccio. Non lo mettere. Non lo mettere. Questa è così. È molto più importante.